I libri di bilancio di questo ente, che come tutte le città metropolitane sono in grande sofferenza a causa di questi trasferimenti allo Stato che drenano moltissimo la maggior parte delle risorse e quindi apriremo un confronto con gli altri sindaci anche in seno all'Anci per rivedere e capire esattamente quale sarà il futuro delle città metropolitane. Senta, parlando del futuro di Roma e del problema dei rifiuti, è preoccupata dall'inchiesta? Sì, stiamo qui a parlare della città metropolitana. Anche Roma va a parte della città metropolitana. Sì, però vede oggi avevamo una votazione importante, come sa in questo periodo sono andate al voto molte città metropolitane proprio sugli equilibri di bilancio e tutte manifestano questa difficoltà. Quindi secondo me è importante anche iniziare a far capire ai cittadini che questa istituzione che nasce con lo scopo poi di fare spending review si trova spesso nell'impossibilità di operare perché di fatto questi trasferimenti possono mettere a rischio l'erogazione dei servizi. Allora i cittadini devono sapere esattamente come stanno le cose. Comunque per quanto riguarda la sua domanda, che ho perfettamente compreso, non sono preoccupata. Sapevamo che ci avrebbero attaccato. Ma l'assessore Muraro, secondo lei, potrebbe essere indagato? C'è chi dice che potrebbe essere indagato in virtù del fatto che ha lavorato per dieci anni Non vorrei rispondere su supposizioni. Nel momento in cui ci sarà qualcosa da dichiarare, lo dichiareremo. Grazie. Grazie. Guardi, questo è il termine che ha dato l'AMA. Quindi noi lavoreremo adesso con l'AMA. Io sono ottimista che nel tempo questa situazione si risolverà. Ovviamente dobbiamo premere molto sulla raccolta differenziale, cosa che non è stata fatta, non è stata fatta a sufficienza. Diciamo anche, lo ribadisco qui per chiarezza, perché poi spesso le voci si inseguono e talvolta vengono anche male riportate. Noi siamo assolutamente convinti dell'agricoltura di Malagrotta e anzi continuiamo a invitare Cerroni a effettuare le operazioni di bonifica. Sarebbe interessante capire come mai nessuno sino ad oggi ha invitato a effettuare queste operazioni di bonifica che erano previste per legge. Sarebbe anche interessante capire come mai, quando Marino nella precedente consigliatura ha pensato di chiudere Malagrotta, non ha anche approntato un sistema corretto e conturo per l'automattimento dei rifiuti. Quindi noi oggi stiamo scontando e rifatto quello che è l'effetto di una politica disastrosa fatta negli ultimi vent'anni sui rifiuti. Allora sarebbe interessante che i giornalisti così zelanti come siete facessero anche delle indagini su come è stato gestito il ciclo dei rifiuti in questi ultimi vent'anni. Noi stiamo iniziando a scontare gli effetti. Ma c'è più che si deve disizionare gli impianti.